Come avevamo promesso il Partito Democratico si apre, abbiamo lanciato la sfida della lista aperta, lista unitaria e l'obiettivo è raggiunto. Si presenta questa lista che per la ricchezza di coloro che ne faranno parte rappresenta l'unico, vero, grande, credibile baluardo alla fermata del rischio che il nuovo Parlamento europeo si è segnato dai nazionalismi. Era un impegno che ci eravamo presi, ringrazio le tantissime disponibilità del mondo della società civile e della politica che hanno dato la loro disponibilità, dall'ex procuratore antimafia a ora Roberto Battiston, ex presidente dell'Asia, le tante donne che hanno scelto di mettersi in gioco. Era una grandissima sfida e sono contento di averla raggiunta. È un PD diverso rispetto a quello di prima, ma come è diverso in queste liste? È sicuramente più aperto e anche più unitario. Io sono anche contento dell'unanimità, ci sono state alcune astensioni, ma nella campagna elettorale sono convinto che supereremo anche questa diffidenza del voto delle astensioni. Ma il fatto di aver raggiunto l'obiettivo di avere tutto il pluralismo interno in campo e inoltre le liste capeggiate moltissimo da non aderenti al Partito Democratico è un segno che insieme stiamo provando a cambiare e a guardare al futuro. Ovviamente per una nuova Europa. Noi ci batteremo per l'Europa della crescita, del lavoro, della dignità della persona, della scuola, della formazione e soprattutto di un'Europa più unita e forte nel mondo, che se sarà necessario dovrà rivedere anche i trattati, perché ad esempio il principio dell'unanimità a volte la frena troppo, ma quello che serve ora è un'Europa diversa e più forte e non la distruzione dell'Europa come propone qualcuno in questo Paese che ci lascerebbe tutti più soli.